io sto facendo il tutorial e e e e e e signori che cosa sono ste robe allora attenzione eh perchè qua la signora potrebbe impazzire mamma guardatela la come adesso guarda vorrei uscire e sfidarla guardatela che pazza si chiama pure rebecca sta qua capito ma era una nonna so mica era rebecca cioè era tipo un demone pazzo ok perfetto raccogli la pietra del caos per diventare horror ciao signorina puoi morire e possiamo giocare vediamo un attimo raga io non ho mai giocato a sto gioco infatti voi mi dovete insegnare se sapete bene come come si fa perchè voi siete più esperti di me in questi giochi e ok vediamo un attimo perchè qua adesso mi sento un po' in ansia prima di tutto afferiamo questa cesta prendiamo le cose da qua perfetto tutte le cose giusto adesso entriamo qua dentro è un battle royale a quanto ho capito è proprio si chiama proprio così quindi caspita si fa così ok ok da qua si entra e si esce giusto perfetto e ci sono tutte le cose il fatto è che io ho un sacco di paura che ci sia gente qua ok così silenzio eh raga ci potrebbero sentire sti pazzi chiunque sia ok anche perchè sapete com'è no io non gioco molto ai battle royale anche se mi piacciono molto però adesso non dobbiamo faccia almeno io vado direttamente dove c'è dove c'è sono le persone perchè mi piace suicidarmi praticamente non ci ho mai giocato a sto gioco però allora mi dissocio da questa cosa che ho appena detto comunque non non si faccia nel senso stavo parlando di un gioco chiaramente no sentite come mi sono impanicato immediatamente ok scusate se vedete la freccia sullo schermo è perchè ovviamente sono da pc quindi sentiamo un attimo dove c'è la gente così vado direttamente ad uccidere ad ucciderla sempre sul gioco chiaramente si parla eh non sono pazzo dai cosa state cosa pensate che io mio nome inizi con p no mi dissocio da questa cosa che sto dicendo chiedo scusa veramente però andiamo avanti qua avanti tecnicamente eh inizio cioè non che tutti i nomi con p però allora siano vabbè niente avete capito insomma era tutta una battuta una burla dai ti prego dammi qualcosa io pensavo che ci fosse qualcuno qua non c'è niente non c'è nessuno e cosa devo dire io io mi voglio avvicinare a qualche persona che sia un po' pazza che mi voglia sfidare perchè magari al mostro horror così lo sfido io eh mi piace questa cosa anche perchè poi tecnicamente oggi dovrebbe essere domenica in teoria quando carico sto video quindi è il giorno dell'horror no? e questo giorno dell'horror è strabello perchè io gli horror li tratto tutti quanti in modo diverso rispetto agli altri youtuber io ci vado a muso dritto dove ci sono i mostri ahah eccoli qua i mostriciattoli stronzettacce lì eccovi qua ciao potete esplodere ok forza 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 boom bene bene sono andato diritto diritto sul viso sul fronte però secondo me c'erano semplici npc no ovviamente cosa posso prendere qua ma che caspita perchè stava a sparare ma è impazzito il mio personaggio ma che caspita non impazzire sai ecco qua sto vedendo una luce che parte da terra è finito il gioco cos'è successo cosa dovrebbe essere questa cosa raga non sto capendo vi prego ditemi cos'è sta cosa nei commenti ditemelo tutti devo imparare a giocare è così bello sto gioco ho visto qualche gamme playa però non so bene che caspita è no no va bene va bene questo va bene questo dai prendo ho preso il mitragliatore cioè ho preso l'altro il fucile là va bene quello perchè là c'era una cesta aperta vuol dire che qua c'è stato già qualcuno e se c'è già stato qualcuno vuol dire che il portale è aperto e quindi io cosa devo fare se il portale è aperto ci sono entrato dentro va bene se ci sono andato dentro ah forse adesso arriverà gente che vorrà uccidermi perchè sono dentro al portale e non devo stare dentro al portale forse questo che mi sta dicendo lo scopriremo solo vivendo infatti si sto praticamente tipo claimando no sta zona qua vediamo se ho ragione o non ho ragione potrei aver ragione ho vinto ma non c'era nessuno in sta partita scusatemi perché non c'è che caspita è successo esattamente non ho ben presente però dai entra nel portale e via al prossimo mostro horror duny si ha vinto la partita c'ero solo io che come caspita ho fatto non vinto cioè nel senso ho vinto ho visto adesso raga la storia si fa seria perchè c'è gente nella partita ok siamo dentro salta prima che mi nervosisca ok allora vai qua prendi queste munizioni molto carine ora dove devo interrare avevo sentito qualcuno mi sa qua in giro raga no sono i miei passi secondo me sono scemo io attenzione buzzolone schifoso vieni qua basta bastiano no no strombolone stromboloide strombolazzolo 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 vieni qua cosa vuoi fare eh ma se ti prendo guarda ti prendo mamma io lo prendo eh lo so per prendere ti prendo ti do le mazzate raga non sono capace di giocare ve l'ho detto che io vado dritto io sono proprio cattivo in sti giochi qua eh non mi ferma nessuno nemmeno il signore con la mazza signore con la mazza viene immediatamente qua raga cosa stiamo facendo stiamo giocando nascondino vabbè dai lo lascio perdere perchè mi sono rotto le palle devo anche andare a cercare delle pistole perchè sennò poi arrivano gli altri e mi rompono veramente il sedere dopo però non è che adesso mi rirompe il sedere lui eh perchè sai come io l'ho lasciato vivere adesso magari lui arriva con il suo mega pistolone e e e mi da insomma mi spara ah ho sentito qualcuno signore non faccia il pazzo sa guardi che io sono pericoloso quando ehm beh quando si tratta di essere un ragno perchè io i ragni li uccido e lei è chiaramente eh però eh adesso la pistola raga eh eh la pistola la pistolona eh la pistolona è buona eh perchè questa pistolona si può usare per uccidere mi dissocio comunque veramente sto dicendo cose brutte però vabbè sempre si parla sempre nei giochi ovviamente quando parlo si è ovvio che si riferisca al gioco o io mi riferisco al gioco si ehm ok andiamo avanti eh ho visto qualcuno raga che cazzo scusate non volevo dire sta questo mezzo dito in vabbè dove sta il signore ho visto qualcuno eh raga ho visto qualcuno eh eh la madonna di quella putzola e dico no no la madonna non è una pu... è ovvio che non sia una puzzola però eh 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 raga eh spara 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 grazie no perchè io vorrei imparare a giocare eh no vorrei vorrei uscire grazie attenzione sono di nuovo nella stessa mappa però stavolta voglio di nuovo uccidere cioè non è che voglio di nuovo uccidere vorrei uccidere qualcuno se è possibile tipo qua non c'è più nessuna cesta male però sono convinto so che da altre parti ci saranno altre ceste no? l'importante è che io trovi queste altre ceste perchè se le trovo posso trovare anche armi utili che mi possano aiutare a non morire di base cioè di base dovrebbe essere questo il mio obiettivo non morire no? e in realtà anche uccidere le altre perchè per non morire bisogna anche uccidere le altre persone no? io mi devo ricordare di stare anche un po' vicino al microfono però sapete con me cioè nel senso se avete dei consigli da darmi datemi dei consigli sulla postazione perchè la postazione mia va un po' schifo sto sentendo qualcuno che spara se spara qualcuno vuol dire che e c'è qualcun altro giustamente non è che uno spara così a caso spero se no cioè nel dubbio ma come caspita fa eh? eh? via via sparati ombre e muori ma dai vai vai a quel paese vai 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 mannaggia mannaggia no raga mannaggia è la puzzolona ok silenzio raga piano 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 ok prendi questo usalo 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 piano ok bene siamo a posto no? io mi dovrei nascondere in posti più sicuri lo so però sono a posto perfetto perfetto ok allora adesso direi di prendere questo questo era comune male vabbè tanto ne ho già una rara nell'inventario ok raga non so se si vede che mi sto impanicando eh non so se si vede che mi sto impanicando però sto cercando di fare del mio meglio anche perché poi guardate che è difficile giocare al computer perché devo usare questa freccia in modo strano cioè non è non è il classico modo di giocare al computer dovrei configurarlo meglio porca miseria e caspita scusate se faccio ste voci da nonno è la mia voce non prendetemi in giro grazie però posso prendere questo kit da cucito so che è il kit di pronto soccorso però insomma io dico kit da cucito perché io sono fatto di tessuto allora eh qualcuno sta conquistando la zona e non glielo devo far permettere se la conquista raga abbiamo perso eh e non può conquistarla giusto forse non ho meno tempo per andarci ti prego dimmi che riesco ad andarci però tecnicamente dovrei riuscirci eccolo qua ecco ok no aspetta forse riesco a prenderlo io ok no allora devo stare qua devo provo so che non si dovrebbe fare ma provo a camperarmela quindi stando qua no e magari in un posto più sicuro perché sennò qua potrebbe essere un po' pericoloso anche perché poi qua raga sono straordinariamente all'aperto mi sto inquietando eh vi giuro che mi sto inquietando poi io non ho ancora visto il mostro cattivo raga il mostro horror quello là che dovrebbe far paura eh scusate mi sono spaventato ho visto qualcosa di strano raga strombolo che non sei altro eccoti qua esplodi vai 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 ok perfetto eh raga ma sono tutti quanti ok bene piano piano ma cosa sta facendo sto qua signore vabbè stava crashando evidentemente però c'è un altro signore lì che no forse ok allora eh signore stronzi picciolo sbricciola il pattuzzolo mannaggia l'epifferocciolo ma raga scusatemi tanto è che sto cercando veramente di di gestirmela al meglio possibile che è veramente ultimamente sono straordinariamente ma cosa sto dicendo poi sto impazzendo raga scusatemi è che è talmente difficile questa storia che allora ce la posso fare eh mi sto anche cucendo come avete visto con l'ago tutto quanto così però ce l'ho fatto ho distrutto tutti i sederi e forse ho vinto ma è così probabilmente erano tutti quanti NPC ma io sono comunque soddisfatto ok ok allora sono qua dentro casa come ben vedete questa è una nuova mappa per fortuna ok quindi adesso io direi di andare anche giù tanto perché c'è una croce all'incontro non voglio sapere sono veramente sconvolto da questa cosa che è appena successa comunque no in realtà non me ne sbatte cioè non mi interessa di base questo potrebbe essere la base di tutta la vita qua ho trovato allora c'è uno scrigno che ho immediatamente aperto e direi di scambio perfetto vabbè facciamo così va ok perché ho una mela poi scusatemi cosa fa la mela secondo me cura la mela perché logicamente di base dovrebbe curare la mela no ok allora qua ci sono altre cose dobbiamo sempre 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 stare attentissimi anche voi ragazzi mi raccomando nei commenti se vedete qualcosa di strano anche perché io so che questi giochi hanno tipo degli indizi no porca miseria hanno degli indizi questi giochi e quindi se sapete degli indizi magari su come si gioca meglio o su come magari non lo so tipo della storia del gioco strana magari non lo so particolare e no no dammi il fucile immediatamente cos'è stato questo rumore ho sentito un rumore estrambo vabbè posso prendere anche questo adesso io direi di andare direttamente alla zona dove si conquista perché comunque le armi ce le ho faccio un po' di fatica chiaramente nel eh raga 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 eh vedete 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 pian piano 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 dai 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 ah oh ce l'ho fatta avete visto la mia faccia ero tipo ah però ok bene adesso andiamo qua prendiamo il kit questo qua perfetto il kit da cucito l'ho preso adesso una volta preso il kit da cucito chiaramente ci nascondiamo un attimo eh meh no miseriaccia c'è mel che è un mostro adesso quindi io dirai di nascondermi qua allora facciamo così va allora prendiamo questo stiamo attenti perché c'è mel che è un mostro credo no no sono coglio raga mi sa che sta conquistando la zona forse sono stupido io forse dove aspetta aspetta da questa parte era dove caspita era la zona il portale si apriva tra uno ok ok tranquilli eh no no ragazzi mi sono cagliato addosso però abbiamo fatto bene allora questo è questo che devo fare praticamente devo sempre andare dal mostro e cercare di sfidarlo e tu in tutti i giochi horror devo fare così quindi adesso sconfitta sarà normale sarà modus operandi del nostro canale perché tanto moriremo sempre con questo modus operandi cioè nel senso il nostro modo di lavorare sarebbe per carità ci sono pubblicità un po' particolari io voglio diventare mostro in questa partita quindi proviamoci va ok ci siamo comunque se vedo che vi piace questo gioco lo porto tante volte tante volte quindi se vedo che vi scrivete in tanti se vedo che lasciate tanti commenti ci sono tante visualizzazioni eccetera io lo porto eh lo porto volentiero perché è molto bello questo gioco ma come scusate però devo imparare un po' a giocarlo perché se no la vedo un po' dura oh la 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 puzzone che non si adesso come la mettiamo eh eh vabbè posso fare di meglio diciamo ragazzi per favore aiutatemi aiutatemi vi prego aiutatemi help me però ho sentito qualcuno e quindi adesso lo prendo immediatamente proprio lì no mi dissocio dove è il signor che sta scappando eccolo qua il signore scappante eh 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 ma cosa sta facendo ma è impazzito no scusate no stronzo oh eeeh oh eeeh oh eeeh 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 va bene raga allora io direi che questo video debba finire qua perché se no qua impazzisco mi raccomando fatemi capire come si gioca a sto gioco perché non ho capito niente di base no scherzo ho capito come si gioca però devo imparare molto meglio se ci sono dei consigli che volete darmi che io non conosco per favore datemi se no non imparerò mai a giocarlo ciao